Vi racconto l'ultima follia dei dem, quelli che si definiscono democratici. Abbiamo visto in questi giorni quanta democrazia c'è in quell'area politica, quanta democrazia nel continuare a farneticare su nostalgici, su pericolo per la democrazia, nel dire poi le elezioni democratiche sì, però se vince la destra alla fine anche se è stata un'elezione democratica la si può invalidare perché bisogna rimanere in democrazia e se vince la destra che è all'interno della democrazia e della Costituzione allora non va bene, magari bisognava cacciarli prima dal Parlamento prima di farli vincere. Insomma, diciamo che quelli che si freggiano di quell'acronimo DEM, democratici, DEM, 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 DEMOCRATICI. Democrazia significa anche sapere ascoltare gli altri, dialogare, confronto, proprio tutto quello che non c'è a sinistra. Loro non dialogano, loro non si confrontano, loro non parlano, loro non accettano che gli altri possano vincere. Si chiama totalitarismo di sinistra questo, un atteggiamento dittatoriale, primordiale. E così, alla vigilia del centenario della marcia su Roma, la sinistra non molla l'osso dell'antifascismo. Sentite quello che vi racconto. Una delle ultime iniziative, proprio in tal senso, è l'annuncio del senatore del PD, Walter Verini, che non è Walter Chiari, Walter Verini, ha depositato in Senato, tra i primi atti della nuova legislatura, un decreto legge, un DDL, contro la ricostituzione del disciolto PNF, Partito Nazionale Fascista, che ripropone la proposta di legge presentata nella scorsa legislatura da Emanuele Fiano. Allora, io ricorderei ad Emanuele e all'altro, che si chiama Walter. Sentite, Walter e Emanuele. Nel sacchettino che vi hanno dato, quando di nuovo siete stati iscritti al Senato, o la Camera dei Deputati, vi hanno dato un sacchettino con dentro la Costituzione. Aprite la Costituzione e andate in fondo, e c'è scritto che in Italia la Costituzione vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto PNF, acronimo di Partito Nazionale Fascista. Quindi non c'è bisogno di nessun decreto legge contro la ricostituzione del disciolto PNF, ma è già nella legge suprema, che è di rango più alto, che è la Costituzione. C'è scritto che non puoi ricostituire sotto nessuna forma, né di associazione, né di chissà che, non puoi ricostituire in nessuna forma il disciolto PNF. Quindi, caro Walter Verini, caro Emanuele Fiano, leggetevi a Costituzione, a Costituzione, leggetevi la Costituzione, e così non facciamo queste figure da cioccolatai, e quindi, direbbe un mio amico, e quindi... Naturalmente non esiste nessun pericolo di ricostituzione, ed è semplicemente una sciocca e stupida perdita di tempo anche solo mettersi a discutere sull'eventuale sì o no a un decreto legge di questo tipo. Anche perché è una sopra... come si dice? È una sovrapposizione di una legge, un decreto legge, di una legge ordinaria a una legge costituzionale che è di rango più alto. Quindi, che cosa vuol dire questa roba qui? Niente! Niente ammiscato con niente, dicono in Sicilia. Cioè, niente mescolato con niente. Mentre l'Italia va a sbattere con le bollette, questi pensano a un decreto legge che vada a impedire qualcosa che già impedisce la Costituzione nelle disposizioni transitorie finali recita testualmente, ve lo leggo proprio, vi leggo proprio l'articolo della Costituzione, dice è vietata, virgola, sotto qualsiasi forma, virgola, la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Punto. Un dirieto che peraltro è stato esteso anche all'apologia del fascismo. sapete, l'apologia è quando uno racconta con enfasi e si vede con trasporto, no? L'epopea, ecco. L'apologia, no? Il sostegno a qualcosa che non esiste più, a questo PNF, in diversa forma, quindi l'apologia. Vediamo se riesco a dirvelo in maniera magari più... l'apologia del fascismo nell'ordinamento giuridico italiano è un reato previsto dall'articolo 4 della legge scelba attuativa della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione. pertanto c'è la ricostituzione del partito PNF che è vietata ma è vietato anche inneggiare a quei tempi la famosa apologia ecco una famosa apologia quando un'associazione un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del PNF esaltando, minacciando usando violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia le sue istituzioni i valori della resistenza o svolgendo propaganda razzista ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti principi fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista questa è l'apologia del fascismo l'apologia del fascismo va anche sotto la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni denigrazione delle sue istituzioni come quella denigrazione che sta facendo oggi la sinistra verso la seconda e la terza carica dello Stato le offese che si sono viste sentite dappertutto in questi giorni contro la russa presidente del senato e vicepresidente della repubblica e Fontana terza carica dello Stato dopo Mattarella e dopo la russa allora qui stiamo facendo della denigrazione delle istituzioni quindi non rientra nella legge scelba sinceramente ma si sta parlando di vilipendio alle più alte cariche dello Stato della Repubblica io consiglierei di procedere legalmente alle alte cariche della Repubblica che stanno venendo in questi giorni offese da altaluni personaggi grazie a tutti arrivederci